Buonasera, in questo nostro incontro settimanale parliamo di un genere letterario praticato da molti, realizzato da pochi, sconosciuto quasi dai più, la poesia. Due sono di norma i modi di avvicinarsi o di trattare questa forma letteraria, quello un po' accademico e spesso giustamente circoscritto di chi partecipa a convegni, incontri o seminari di poesia, quasi una riunione di specialisti dove si usa spesso un linguaggio colto, quasi tecnico, simile a quello usato in un convegno di psicanalisi o di ingegneria. E il secondo è quello un tantino velleitario, direi plebeo o infantile a seconda dei casi, di credere di poter essere poeti perché si è scritto, ossia nel cassetto della propria scrivania, pagine e pagine di malinconici, struggenti o esistenziali versi poetici. Tutti forse giustamente scritti, ma certo non degni di essere pubblicati e meritevoli di uscire da una propria sfera privata. Ora, nel limite di tempo di questa nostra rubrica, cercheremo di trattare la poesia in termini più che comprensibili, uscendo da un'ottica di aristocratica chiusura, ma nello stesso tempo cercando di non banalizzare o di involgarire una forma di cultura difficile da trattare proprio per questa sua forza di intimità e di discrezione. E per partire con il piede giusto dobbiamo avere un poeta e questo ce lo possiamo permettere ed è ora che io presenti il nostro ospite. Francesco Maria di Bernardo Amato, di professione medico, opera nella nostra città. Ama scrivere versi e di versi sono ormai le raccolte delle sue poesie, dalla prima, Il Maranzano, a Proseuton, allo specchio La Rovessia, all'ultima opera, Mitton. Alcuni brani figurano anche nel volume monografico La poesia in Friuli Venezia Giulia, a cura di Gianni di Fusco, una raccolta di poeti friolani o che vivono nella nostra regione. Ed ora la prima delle domande. Nella raccolta Proseuton, che significa per se stesso, si va ben al di là del significato della parola. C'è sì il tuo te stesso, la tua individualità, espressa privatamente, ma penso che per un poeta parlare del proprio microcosmo, sia parlare anche del se stesso di tutti noi. Non dico, deva essere così evidente e rendere pubblico, direi quasi socializzare il proprio dire, il proprio narrare, ma perlomeno farlo trasparire con discrezione. Sì, il se stesso è quello che ci appartiene per noi, in questo caso sicuramente è per chi forse con un certo sentore di timidezza non vuole dire che questo appartiene a tutti quanti, ma solo a quella piccola parte di tutti quanti che è in ciascuno di noi, nella misura in cui le somiglianze sono possibili per il fatto che tutti quanti siamo fatti ed esistiamo nella stessa maniera, perlomeno per quanto riguarda il rapporto di noi con noi stessi e di noi con il diverso da noi, il nostro mondo. Allora se è possibile in questo accomunarsi attraverso questa operazione di rivelazione o rilevazione, in questo senso posso accogliere questo tipo di interpretazione del titolo. Che rapporto trovi fra il tuo lavoro, cioè quello di medico, e il fare poesia? Se è vero quello che ha scritto nell'introduzione a una tua raccolta di versi, Vincenzo Di Maria, alcuni anni or sono. Cioè che la poesia vera deve essere uno strumento di liberazione, deve contenere in sé un'energia libertaria quasi, deve tendere ad un vivere migliore. Cioè in altri termini, esiste una cura per chi soffre l'angoscia di vivere nel conformismo? La poesia deve, già è una... cioè la poesia non deve, la poesia è per quello che è. Quindi chiaramente io non sono molto d'accordo neppure con quello che è stato scritto. Il rapporto tra me come medico, cioè per quella che è la mia professione, la mia pubblica quotidianità e la mia interiorità è chiaramente non può che essere inscindibile, ma le due operazioni non saprei neppure io stesso laddove farle convergere o se convergano. Diciamo che il bisogno di scrivere la passione per le lettere è stata antecedente a quello che poi è diventata una scelta di vita, cioè quella di fare il medico. Sì, sicuramente spesso mi si chiede questo fatto, me lo sono anche chiesto personalmente, ma non penso che le due cose abbiano né concorrenza da un certo punto di vista né convergenza da quell'altro punto di vista. Ora, da ultimo, volevo trarre una considerazione che mi è venuta leggendo l'introduzione che ha fatto alla tua ultimo lavoro Massimo Riccetti, dove dice che offrire poesia ha un che di rituale, di sacro, perché la sua funzione è diversa da quella del linguaggio parlato, del linguaggio quotidiano, della prosa. La poesia non deve essere spiegata, ma ascoltata perché un qualcosa riaffiori dall'oblio, qualcosa che non sia solo parola, ma mitos, cioè racconto, quindi non un discorso razionale, ma il narrare che dia la capacità di giungere alla comprensione di se stessi, del proprio passato e di aspirare anche a capire quello che è il nostro futuro. Il nostro futuro riuscire a capirlo però non fino al punto estremo, cioè la morte. Direi soprattutto la comprensione del nostro quindi passato, laddove questo è possibile per quanto noi siamo in grado di narrare noi stessi. In verità noi siamo, per quello di cui sono convinto, siamo linguaggio, esistiamo come linguaggio. Solo che il linguaggio della poesia non è un linguaggio come dire lineare o tangenziale, bensì un linguaggio, a mio modo di vedere, circolare. La circolarità di questo linguaggio è infinitamente dilatabile o restringibile, per quanto sia dilatabile o restringibile la dicibilità delle cose. Ecco perché usufruire della parola come mito, non come logos, può essere un'operazione attraversabile, percorribile. Il tentativo forse di questo mio ultimo lavoro è questo. C'è un punto verso il quale tendiamo, scusate, è verso il quale difficilmente forse è possibile raggiungere un punto di contatto. Anche se questo in effetti non è l'assenza dell'uno o dell'altro polo dell'incontro. Ora, dopo aver ringraziato di aver partecipato a questo nostro incontro, Francesco Di Bernardo, e dandovi appuntamento alla prossima settimana, vorrei chiudere questa nostra chiacchierata pregando l'autore di leggere una poesia, quella a lui più cara. Leggerò una poesia tratta dalla sezione Inutilità della poesia. Non furono le tombe a rendere reale la morte, ma l'inutilità della poesia a rendere vero lì reale. Così come punge un certo odore dei fiori lasciati lì a macerare sui marmi, tra i ceri, nel chiuso sepolcrale. Così come antico è il respiro di sollievo al di qua del viale dell'ade, nella città dei vivi e le passate stagioni, i colori, la luce che divina si scolpisce e inquadra le cose. Allontaniamoci dal fardello grave su cui pesano le ombre e muoviamoci verso l'alba che tende la mano. Il silenzio è d'oro. Cessata la notte ci sarà altra notte, la summa delle notti possibili e il loro pur lento svanire in un punto solitario dove comincia il giorno. arriverà col suo chiasso di ore di squille, così laborioso di tutto punto vestito, non piacerà a nessuno. Nella sua inutile brevità l'alba era stata nuda e silenziosa. Allontaniamoci dal fardello.